Scusa ipocrite, liquerelo per diffamazione. Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di pubblica sicurezza, decide di portare in tribunale il segretario del COISP, sindacato di polizia, che due giorni fa aveva indetto un zittini di solidarietà a sostegno dei quattro poliziotti condannati in via definitiva per l'omicidio del ragazzo proprio sotto gli uffici del comune, dove la donna lavora. Alla vista dello striscione della legge, non uguale per tutti i poliziotti in carcere e criminali a casa, la donna era scesa in piazza e aveva srotolato una foto del figlio morto, quella dell'obitorio, con la faccia insanguinata ai segni del pestaggio subito. Gli agenti le hanno voltato alle spalle Franco Maccari, il leader del COISP, piccolo sindacato di polizia, nel chiedere scusa. La donna aveva insinuato che la foto mostrata fosse un fotomontaggio, troppo per la madre del ragazzo ucciso, che ha deciso di querelarlo. Questa mattina abbiamo deciso di querelare Maccari del COISP e anche l'ex senatore Balboni, perché nel congresso che hanno ottenuto ieri pomeriggio a Ferrara hanno insinuato per l'ennesima volta che la fotografia fatta sul tavolo dell'obitorio a Federico fosse un photoshop taroccato. In realtà vorrei veramente che lo fosse, sarei la prima ad essere contenta che la realtà non fosse quella rappresentata dalla fotografia. Quella foto è stato un atto, è uno degli atti del processo. La loro è l'ennesima cattiveria che si rincorre ormai da otto anni da parte di persone varie che appartengono alle forze dell'ordine in maniera forse impropria. Ritengo veramente offensivo, oltraggioso e mi fa molto male questo comportamento. Ogni volta si riapre una ferita. Una ferita che non si è mai chiusa, ma che vorrei fosse mia. Vorrei che a questo punto, dopo tutte le sentenze, questo discorso si chiudesse. Vorrei che la memoria di Federico a questo punto fosse legata a qualcosa di buono, di bello e fosse un inno alla vita, il ricordo di Federico. La vicenda è subito diventata un caso politico, con la dura condanna della ministra dell'interno Cancellieri, che ha inviato un'ispezione per capire chi abbia organizzato e concesso la protesta in piazza. Quei manifestanti, ha detto, non rappresentano la polizia, ma la risposta del COISP non si è fatta attendere. Abbiamo solo usato dire come stanno, le cose replicano. La Cancellieri deve dimettersi. E oggi a Ferrara, nella stessa piazza del sitin della Discordia, ci sarà una manifestazione in solidarietà con la famiglia Aldrovandi.